Benvenuti ragazzi e bentornati in questo nuovo video sul mio canale Siamo qui oggi per un video divertente Un video dove andiamo praticamente a simulare tramite il generatore di numeri Tutta la nona giornata di serie B Giornata di serie B che inizierà venerdì Oggi questo video, domani un altro video E giovedì ragazzi i pronostici per avvicinarci per l'appunto in maniera diversa Alla prossima giornata che sarà importante Questo video divertente Vedremo un po' che tipo di risultati possono venire fuori E poi che tipo di classifica può venire fuori Con per l'appunto ragazzi Questi e questo simulatore di serie B Mi raccomando però Prima di partire col video Vi dobbiamo chiedere un pollice nessuno qua sotto Tanti mi piace per supportare questo contenuto Vorrei portarvi ragazzi questo format ogni settimana Ma tutto dipende da voi Iniziamo in iscrizione al canale Mi raccomando totalmente Iscrivetevi al canale che parla solo e unicamente di serie B E noi iniziamo subito Iniziamo da Bari Catanzaro Che per l'appunto si giocherà venerdì Ora 20.30 Minimo 0 gol Ragazzi massimo 3 gol Vediamo Partiamo col Bari Che secondo il generatore di numeri ragazzi Farà la bellezza di Iniziamo adesso Genera Un gol Il Bari ragazzi farà un gol Vediamo quanti ne fa il Catanzaro Di Caserta Che rischia secondo me anche la panchina Attenzione 1-0 ragazzi 1-0 Bari E sarebbe una sconfitta Secondo me Fatale Per Per gli uomini Di Caserta Perché di Caserta Per l'appunto Secondo me si gioca tanto la panchina Città della Cosenza È arrivato il nuovo allenatore per il Città ragazzi Che dovrà subito dare una svolta alla squadra Un Cosenza invece che ha bisogno di punti Persa Per Per Allontanarsi dalle zone rosse di classifica Il Città fa 3 gol Il Cosenza Ne fa 0 Clamorosamente vincerebbe il Città ragazzi 3-0 Una partita Potrebbe essere una partita a senso unico Certo è che sicuramente inizierebbe nel modo migliore possibile L'avventura del nuovo allenatore Del Città Salerni Modena Palermo Il Modena ragazzi fa 2 gol Il Palermo Ne fa 0 Sarebbe una vittoria importantissima per Pierpaolo Bisoli Invece sarebbe una sconfitta non dico fatale Ma quasi per Dionisi In casa Palermo Sarebbe un risultato importante Che rilancierebbe forse definitivamente le ambizioni Della squadra di Pierpaolo Bisoli Salernitana Spezia Salernitana fa un gol Lo Spezia Ne fa Ne fa 3 Vittoria E sarebbe ancora Imbattibilità per la squadra di Luca D'Angelo Che vincerebbe 3 a 1 a Salerno in un campo difficile Una squadra che viene da 4 risultati utili consecutivi Sarebbe un grandissimo risultato Un risultato che lancerebbe in classifica ancora una volta la squadra di Luca D'Angelo E diciamo metterebbe un'ipoteca su una squadra che forse può lottare veramente quest'anno Per grandi obiettivi Suttirol Pisa La capolista contro il Suttirol Il Suttirol fa 2 gol Il Pisa ragazzi Ne fa Ne fa 1 Brutta questa Brutta questa Sarebbe una sconfitta pesante Per il Pisa Comunque sempre Ricordiamolo Ragazzi In un campo ostico Ma Il Pisa Le qualità tecniche Anche per vincere A Bolzano Contro il Suttirol Il Brescia Sassuolo Due squadre che stanno bene Due squadre che giocano un gran calcio Il Brescia ragazzi Fa 2 gol Il Sassuolo Ne fa 0 Brutta questa sconfitta per il Sassuolo Per il Brescia Vorrebbe dire Prendere Consapevolezza dei propri mezzi Prendere ragazzi Prendere ancora più slancio Per cercare di raggiungere Grandissimi obiettivi Carranese Mantua Partita fra due neopromosse Ragazzi La Carranese che viene dalla vittoria Nell'ultimo turno Il Mantua da un pareggio La Carranese fa Un gol Il Mantua Signori Ne fa due Vittoria in trasferta per il Mantua Importantissima Sarebbero tre punti Ancora una volta Importanti Che darebbero ancora più consapevolezza Alla squadra Del percorso che sta facendo Con Davide Possanzini Juve Stabia cremonese Juve Stabia che ne fa tre Quindi fa il massimo cremonese Che è il nuovo allenatore E Eugenio Corini Ne fa Ne fa 0 Sarebbe un inizio shock Per Corini Ragazzi A Cremona Perderebbe 3 a 0 Almenti Di Castellamare Di Stabia Sarebbe una sconfitta Pesantissima Reggiana Frosinone Reggiana che fa tre goli Quindi fa il massimo Il Frosinone In zona retrocessione Con Vivarini Che rischia Ragazzi Risponde con Con un gol Uh Brutta 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 Sarebbe una sconfitta Pesantissima Per il Frosinone L'ennesima E veramente Metterebbe a serio rischio La panchina Di Vincenzo Vivarini Proseguiamo Con l'ultima gara Cesena Sampdoria Cesena ragazzi Che fa 0 gol Sampdoria Di Sottil Che ne fa 3 3 a 0 Samp in trasferta Sul campo del Cesena Sarebbe un risultato clamoroso Anche perché il Cesena In casa è una squadra Che non ha mai perso Soprattutto in casa Gioca ancora meglio Rispetto a quando È in trasferta Calcoliamo la classifica E vediamo come cambierebbe Con questi risultati Spezia primo A 19 Pisa secondo 17 Abbiamo poi La Juve Stabia terza Ragazzi 17 Brescia Quarto A 16 Sassuolo 15 Su Tirol 15 Quinto e sesto Mantua e Bari Settimo ottavo Il Mantua Settimo a 14 Bari Ottavo a 13 Abbiamo poi il Modena Nono ragazzi A 12 Reggiano a 12 Sampdoria 11 Cremonese 11 Sampdoria e Cremonese Messe in bruttissime In zona di classifica Palermo 11 Lo stesso discorso Che vale per Samp e Cremonese Cesena ragazzi 11 Salernitana 11 Cittadella 11 Cosenza Che non sarebbe a 9 Perché dobbiamo togliere 4 punti Rimarrebbe per l'appunto Ragazzi a 5 punti Sarebbe ultimo in classifica Ci sarebbero Catanzaro a 8 Cararese a 7 Frosinone a 6 E per l'appunto Cosenza Fanellino di coda A quota 5 punti Fatemi sapere la vostra Qui sotto con un commento Cosa ne pensate di questo format Pollicione sul video Iscrizione al canale Noi ci becchiamo A un prossimo contenuto Bella ragazzi